Migliaia di persone in attesa del tampone molecolare, l'ASREM corre ai ripari e chiarisce che per la diagnosi dell'infezione da Covid-19 adesso basterà il tampone antigenico. Il direttore generale, Oreste Florenzano, tramite una nota ha annunciato che tra un paio di giorni sarà pronto un nuovo sistema che coinvolgerà farmacie e ambulatori autorizzati, cioè quelle strutture che inseriscono i dati sulla piattaforma nazionale utile al rilascio del Green Pass. Per la diagnosi e anche per i controlli nei soggetti positivi e per i contatti stretti saranno ritenuti validi anche i tamponi rapidi effettuati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta e comunque solo i test trasmessi al sistema tessera sanitaria. L'ASREM sta mettendo l'iter per fare in modo che farmacie, laboratori e cliniche accedano al sistema informatico che viene già utilizzato per la sorveglianza del Covid-19 in modo da agevolare il tracciamento. Una soluzione questa assunta considerando l'alto numero di molisani in migliaia che sono in attesa del molecolare, un'attesa che al momento è almeno di sette giorni se non di più. A proposito di tamponi, dagli ultimi 772 processati dal laboratorio di microbiologia del Cardarelli sono emersi 228 nuovi casi con un tasso di contagiosità che è al 29,5%. Altri 58 positivi a Campobasso, 41 a Esernia, 32 a Venafro. Una persona di cerce piccola è stata ricoverata, una di Monteroduni dimessa e al momento al Cardarelli ci sono 23 pazienti Covid-19, due in terapia intensiva, gli altri in malattie infettive, dieci complessivamente non sono vaccinati. Infine sono state ribadite dall'ASREM le novità relativamente all'ultima circolare emessa dal Ministero e che non valgono per gli operatori sanitari inerenti il Green Pass e le quarantene. Chi ha un contatto stretto di un positivo e non è vaccinato o non ha completato il ciclo primario o lo ha completato da meno di 14 giorni, rimane in quarantena per 10 giorni, ma sarà libero solo dopo un tampone negativo, molecolare o antigenico. Chi ha un contatto stretto di un positivo e ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni ed è in possesso di un Green Pass in corso di validità oppure asintomatico, resta in quarantena per 5 giorni, potrà uscire solo dopo un tampone molecolare o rapido negativo. Chi ha un contatto stretto di un positivo e ha ricevuto la terza dose booster o abbia completato il ciclo primario da più di 14 giorni e non più di 120 giorni oppure guarito da 120 giorni ed è asintomatico, non è soggetto a quarantena ma deve indossare le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione a un caso positivo.